Grazie, mi sentite? Mi sentite? Allora, io sono qua di sabati, la mia storia la conoscete già? Adesso vi aggiorno un po' sulla mia storia, perché io ho tempo indietro, insomma, suggerimento per via traverse dal sindacalista, perché i sindacati a suo tempo hanno comunque negato qualsiasi aiuto ai sanitari, diciamo che di sotto manco uno, no perché fosse d'accordo per me, ma probabilmente solo per un senso di giustizia, mi aveva suggerito di fare ricorso allo Spisal per il fatto che io ero stata messa come sospesa perché non ero idonea temporaneamente e perché non mi sono vaccinata. Sono andata a fare la visita a via salva da Spisal, la Spisal, più voce di così, cioè purtroppo io spero che appoggio questo.